Salve, buongiorno. Presidente Seracchiani, un altro tassello della solidarietà del Friuli Venezia Giulia va alle aree terremotate del centro Italia. Segnale importantissimo. Devo ringraziare ognuno dei cittadini di Butrio perché non solo in una giornata importante in cui hanno dedicato il loro tempo a raccogliere fondi, ma anche con donazioni private, oggi si hanno consegnato una bella somma che si aggiunge alle donazioni che stiamo raccogliendo ormai da diverse settimane. Io mi auguro che continui questa volontà di partecipare alla realizzazione di quella che ormai è diventata veramente una missione collettiva. Realizziamo la prima scuola in via definitiva, tra l'altro molto particolare. È il primo edificio strategico che consegniamo nell'area del cratere dell'Italia centrale ed è soprattutto un gesto che facciamo per la comunità di Sarnano. Sono 82 bambini che potranno di nuovo avere non soltanto una bella scuola, ma una scuola anche efficiente dal punto di vista energetico, esteticamente bella e anche autonoma e dall'altra parte ovviamente anche un edificio strategico importante per la comunità. Sindaco Sincerotto, come è nata questa iniziativa della comunità di Butrio? È nata da un'idea della nostra amministrazione e da un'associazione di Cammino di Butrio per rendersi utili per queste popolazioni che hanno state devastate il mese di agosto dello scorso anno dal terremoto. Per cui abbiamo deciso nella data del 25 settembre dello scorso anno di promuovere questa iniziativa dove una pasta per amatrice, una amatriciana naturalmente, e poi abbiamo avuto una risposta veramente molto molto importante e poi appunto come dicevo abbiamo deciso di devolvere questi contributi che sono stati dati dai singoli cittadini di Butrio ma anche dalle associazioni di Butrio per questa opera, per questa scuola diciamo così creata dalla Regione Friulnessia Giulia.